Se dovessimo chiederci da dove vengono le storie, beh, dovremmo risalire indietro nel tempo, probabilmente fino alla comparsa dell'Homo sapiens sapiens. Questo perché la capacità di simbolizzazione, ovvero di creare rappresentazioni mentali di oggetti ed eventi che non sono presenti fisicamente, e il linguaggio che ci consente di comunicare e condividere questi oggetti mentali con gli altri, sono stati senz'altro due abilità che hanno permesso all'uomo di scalare, diciamo, la scala, la girarchia evolutiva e di avere un grande vantaggio rispetto alle altre specie. Ma queste stesse abilità, la simbolizzazione e il linguaggio, sono anche al servizio dello storytelling, cioè dell'arte e della cultura di raccontare storie. In tutta la nostra storia umana e in ogni cultura il racconto delle storie è stato il mezzo con cui innanzitutto insegnare alle nuove generazioni l'etica, i valori, le norme culturali, ma attraverso le storie abbiamo da sempre tramandato anche la conoscenza, utilizzando formati, modalità differenti come appunto la letteratura, come il teatro, come la musica. Pensiamo che nelle culture popolari si usavano molto spesso leggende, proverbi, epigrammi, topoi letterari e ripetuti di frequente per facilitare il ricordo e questo in particolare prima dell'invenzione della stampa. E poi le storie sono sempre state utilizzate anche per costruire forti legami, coesione all'interno delle società, legami emotivi tra le persone, nei gruppi, legami sociali. E le storie da sempre sono stati anche un mezzo per intrattenere, per emozionare, per divertire. Ecco, molti autori hanno provato a individuare degli elementi ricorrenti, degli elementi distintivi che possiamo ritrovare in qualsiasi tipo di narrazione, che si tratti di un romanzo, di un film o di un fumetto. Un primo aspetto è quello definito sequenzialità narrativa, ecco, cioè la possibilità di scegliere all'interno di una narrazione la successione degli eventi raccontati. Successione che non necessariamente devi rispecchiare la sequenza cronologica degli eventi. Pensiamo ad esempio all'uso del flashback nel romanzo o nel cinema. Un altro aspetto è la particolarità. Come se avessimo uno zoom, uno zoom di una macchina fotografica, noi in qualunque opera narrativa possiamo espandere, per fini narrativi, degli oggetti, degli eventi, dei momenti, che nella realtà durerebbero pochissimo, sarebbero impercettibili, sarebbero secondari. Pensiamo ad esempio alla descrizione di un istante, di un momento emotivamente significativo su un'intera pagina di un libro. O al contrario possiamo decidere di contrarre grandi spazi o grandi intervalli temporali che non sono interessanti ai fini narrativi in un solo istante, in una sola riga di uno scritto. Un'altra caratteristica ancora è l'intenzionalità, cioè il gioco che il narratore svolge entrando e uscendo tra due scenari, lo scenario dell'azione, quello cioè degli eventi osservabili dall'esterno, oggettivi, e lo scenario della coscienza, cioè l'interiorità dei personaggi, e la possibilità chiaramente dello spettatore di potersi soffermare liberamente su uno o sull'altro piano, cambiando di conseguenza il livello di lettura, il significato di questi eventi. Un'altra caratteristica ancora è la verosimilianza, cioè dentro la narrazione non vale la dicotomia vero-falso che noi generalmente applichiamo alla realtà, ma c'è lo spazio per il verosimile e per contenuti che non devono necessariamente essere verificati, essere provati per essere accettati dallo spettatore. E ancora la referenzialità, cioè gli eventi di una narrazione, anche se non devono corrispondere alla realtà, devono però mantenersi dentro un quadro di plausibilità, di coerenza tra gli essi, in qualche modo, e con il genere narrativo di riferimento. L'opera narrativa, come ogni opera artistica, poi ha moltiplici livelli di interpretazione e significato, prodotti dai lettori o dagli spettatori, che costruendo nuove interpretazioni appunto partecipano come veri e propri coautori di un'opera. Ogni narrazione appartiene infine a un genere, un genere che è determinato da due aspetti. Da un lato la fabula, cioè l'insieme degli elementi di una storia considerati nel loro ordine, cronologico e logico della storia, del loro ordine narrativo, e anche i personaggi con i loro ruoli. Ma un altro aspetto importante che determina il genere è anche l'intreccio, cioè le tecniche narrative scelte dall'autore, per andare a disporre gli eventi di una storia. Facciamo ora un velocissimo salto temporale in avanti per arrivare alla nostra società, quella del web 2.0. Se pensiamo a come tutti noi utenti utilizziamo il web quotidianamente, in particolare al successo di piattaforme social e di video sharing come YouTube, piattaforme come Facebook, come Instagram, ci rendiamo conto che in gran parte la rete è un grandissimo contenitore di narratori e di narrazioni digitali. Ma a differenza dell'epoca precedente al web in cui c'era una chiara separazione tra gli spettatori, gli utenti dal lato e gli autori dell'informazione dall'altra, quindi gli scrittori, i giornalisti, i produttori, oggi ogni utente nel web può essere in tempi differenti pubblico o autore, oppure addirittura coautore di prodotti narrativi nati da una contaminazione di narrazioni differenti. Pensiamo ad esempio alla pratica di molti utenti di mixare contenuti video per crearne altri e pubblicarli nelle piattaforme di video sharing come YouTube. Eppure il digital storytelling nasce molto prima dell'avvento dei social, nasce negli anni 90, quando Dana Hatchley e Joe Lambert fondano il Center for Digital Storytelling a San Francisco. La loro era una missione ben precisa che aveva a che fare con le finalità della narrazione tradizionali, quelle antiche che abbiamo visto prima e sicuramente non con il web, cioè rinsaldare i legami sociali ed emotivi delle comunità, ricostruire dei legami e preservare in qualche modo l'identità di queste comunità in un'epoca che loro sentivano di forte frammentazione e di grande individualismo. Ebbene fu facile acconiare questo termine di digital storytelling con i primi esperimenti artistici realizzati nella forma di performance teatrali in cui venivano introdotti degli schermi su cui scorrevano foto e video di storie di vita accompagnati appunto dalla lettura, dalla narrazione di queste storie. Inizialmente le storie digitali erano proprio storie biografiche che in quegli anni e per la prima volta con le prime tecnologie accessibili e con la comparsa di internet potevano raccogliere comunità virtuali attorno appunto a queste storie, attorno a delle emozioni, dei significati. Bene, possiamo adesso dare una nostra definizione di digital storytelling che però sarà un po' più ampia, un po' più generale rispetto a quella connessa alla storia di vita, alla storia biografica appunto formulata da Ashley e Lambert. Possiamo definire storytelling digital l'utilizzo di strumenti di tecnologie digitali di vario genere come computer, fotocamere, software e altre attrezzature per raccontare storie. In questo senso possiamo pensare non solo a video contraddistinti da uno stile cinematografico ma anche per esempio a podcast audio, a blog, a album digitali, a racconti illustrati, a libri digitali sfogliabili, i cosiddetti flipbook e molto altro. Le storie digitali hanno tutte un tema centrale e sono narrate generalmente da un punto di vista definito con cui si guarda il mondo. Inoltre le storie digitali sono un po' per definizione, specialmente nei contesti didattici, piuttosto brevi. Hanno una durata generalmente tra i 2-3 ai 10-15 minuti, un tempo che può sembrare breve ma se visto dal punto di vista della creazione delle storie da parte degli studenti in realtà è piuttosto lungo, piuttosto impegnativo. Ora entriamo un po' più a fondo nel DNA delle storie digitali. Prova un attimo a pensare alle storie che ti hanno segnato, che ti sono rimaste particolarmente impresse nella memoria. Possono essere i libri che porti con te nella tua memoria, possono essere dei film, dei racconti. che cosa hanno di speciale, in qualche modo, o che li hanno resi così potenti? Ora prova a fermare in questo video tra un attimo e a pensarci. Quindi prova a creare un breve elenco di qualità che ogni storia dovrebbe avere, secondo te e dal tuo punto di vista, per essere efficace, a prescindere dal genere o dai contenuti. Una volta terminato l'esercizio, ti chiederò di vedere un piccolo short movie, The Present. Quando l'avrai visto, riguarda il tuo elenco per aggiungere o modificare, se vuoi, alcuni elementi. Ed ecco la ricetta degli attributi che Joe Lambert, uno dei due pionieri del digital storytelling, ha elaborato per creare appunto una storia efficace in contesto didattico. Guardando questo elenco, potresti renderti conto di aver inserito altre caratteristiche qui non presenti o di non aver pensato ad alcuni di queste. Perciò potresti anche crearti un nuovo elenco, un tuo elenco personale che vada a raccogliere elementi dell'uno e dell'altra lista. Ci soffermiamo brevemente su questi elementi. Una storia soprattutto nella prima accezione formulata dagli autori, quello di storia di vita, di storia biografica, perché sia percepita come autentica dovrebbe far trasparire un punto di vista personale, cioè lo sguardo sul mondo del narratore. Nel corso della visione, spesso già nelle prime inquadrature, inoltre la storia dovrebbe, se possibile, creare nella mente dello spettatore almeno una o più domande, la cosiddetta domanda cruciale, cioè quella domanda che produce in lui un senso di attesa. Ed è quella domanda che lo spingerà a voler vedere la storia a fine in fondo, fino alla fine, per sapere fondamentalmente come andrà a finire o per avere la risposta a questa domanda lasciata in sospeso. Ecco, questo aspetto ci può sembrare assolutamente familiare se pensiamo all'attesa creata alla fine di ogni puntata delle fiction televisive, delle serie che vediamo tutti i giorni. Quelle domande lasciate in sospeso alla fine della puntata che ci spingono poi, a volte anche compulsivamente, a guardare quella successiva. E poi la capacità delle storie di evocare emozioni è ciò che le rende veramente potenti, capaci di attivare quindi spesso un cambiamento profondo o, come dire, un atto di consapevolezza nello spettatore, di cui quindi l'importanza di inserire nella narrazione delle emozioni, delle forti emozioni. La presenza della voce, poi, di una voce narrante o delle voci di dialoghi, di personaggi, dona chiaramente alla storia autenticità e orienta in particolare l'attenzione dello spettatore. Abbiamo poi l'aspetto della colonna sonora, cioè l'utilizzo di musiche che siano funzionali a orientare l'attenzione dello spettatore o amplificare certe emozioni, certi sentimenti. E ancora il principio dell'economia della narrazione, che dovrebbe indurre l'autore a utilizzare con una certa parsimonia gli elementi video, testuali, sonori, scegliendo in ogni momento la modalità più efficace o la combinazione più efficace per trasmettere un messaggio, evitando soprattutto di sovraccaricare lo spettatore con informazioni eccessive o ridondanti. facciamo un piccolo esempio. Delle parole pronunciate da un narratore a schermo nero, per esempio, e senza una musica di fondo, potrebbero acquistare in questo modo molto più potenza rispetto a quelle stesse parole pronunciate però con molti altri elementi di disturbo. Questo aspetto, quello dell'economia della narrazione, della parsimonia, può essere un elemento importante su cui far riflettere i bambini, i ragazzi, i nostri studenti, a cui molto spesso vanno allenati. Infine, il ritmo narrativo, cioè la sequenza e i tempi con cui gli eventi della storia si svolgono. Questo ritmo chiaramente varia e dipende strettamente dal pubblico a cui la storia si rivolge. Ebbene, puoi tenere a mente questo elenco o quello che hai creato tu e trasformarlo in una vera e propria ciclista che potresti utilizzare, che ti potrebbe aiutare nel momento in cui progetti una storia digitale per la tua classe, oppure da consegnare direttamente ai tuoi studenti se saranno loro a crearla.